Presidente Alfonso, io davvero vi ringrazio perché non mi aspettavo che le ritenute decadenti Camere di Commercio potessero produrre e promuovere un livello di approfondimento di questa fatta e non ne parlo perché ho un radicamento in altro suolo, ne parlo perché se leggo il prodotto normativo nazionale vedo che questi spazi di aggregazione delle imprese vengono sempre di più ritenuti come spazi soltanto databili nel Novecento, invece la Camera di Commercio che si mette in discussione, qua si trova dentro di sé un'inquietudine, mette in campo una riflessione di cui c'è bisogno a questo livello senza il protagonismo eccessivo delle istituzioni. Io adesso sono stato invitato e quindi mi prendo un pezzo di protagonismo, ma c'era bisogno di una discussione di questa fatta in questi giorni nei quali si sta apponendo l'ultima parte di inchiostro ai provvedimenti normativi e amministrativi che riassettano le autorità portuali. Io poche volte avverto imbarazzo, mi capitava quando era presente il mio rettore Luciano Russi e quando è presente Sua Eccellenza l'Arcivesco Bruno Forte, però proverò a fare resistenza. Mi ha convinto molto anche la composizione dei contributi. Napoli ha dato i Natali ai migliori studiosi di economia e di programmazione delle infrastrutture. Il professore Forte io non connettevo che potesse essere il fratello dell'Arcivesco non perché non era praticabile questo livello duale di bravure, ma ho detto dalla teologia all'economia dei trasporti. Poi so che ci sono anche altre bravure in famiglia, anche nel campo del diritto, mi risulta. Il piano paesistico della tua regione è stato fatto vent'anni fa dal mio fratello che è un altro. E fai un altro. Avete occupato militarmente per ciò. Ecco, consapevole di questo e anche di questi elevati contributi, faccio un'altra riflessione diciamo ad un tema che apparentemente non c'entra nulla e poi entro con gli stivali nella parte che avete sanamente affrontato. Eccellenza Bruno Forte, cari amici imprenditori che siete qui, docenti che ritrovo anche in platea, persone anche del sindacato che stanno prodigandosi per fare bene, giorni fa è uscito un articolo interessante su Repubblica a firma di Eugenio Scalfari dove poneva la necessità per l'Italia, ma non solo per l'Italia, di stabilire, lui diceva Scalfari, una oligarchia delle intelligenze per aiutare questa fase nuova di cui ha bisogno l'Italia e cercava di precisare che dentro la democrazia ci deve essere un'oligarchia che si faccia carico di un pensiero lineare che va in avanti. Un'espressione francamente molto impegnativa, tant'è che è stato criticato da tutti, qualche giorno dopo è uscito un fondo del direttore del Fatto Quotidiano che dice che la democrazia non è esattamente questa. Io prendo a prestito l'immagine che ha fatto Scalfari di oligarchia per dire che un pensiero della borghesia più evoluta ci serve per quanto riguarda il fabbisogno di infrastrutture. perché tutto il Novecento, adesso io non voglio dare pugni allo stomaco alle attività fatte nel Novecento, nel Novecento noi abbiamo avuto un safari realizzativo di infrastrutture che molte volte non centravano nulla con ciò che doveva servire all'economia dell'Abruzzo concepita al futuro. Cioè si è visto sostanzialmente come l'infrastruttura era la parte molle di una pretesa di consumo facile. Io per esempio mi ritrovo con l'infrastruttura che sta a Manopello Scalo che comunque la guardo ha una irrisolvibilità. Parlo dell'interporto di Manopello ma comunque guardo, vedo questi snodi di una rigidità inaudita, che spero siano serviti a chi li ha fabbricati e a chi li ha progettati. E perché è potuto accadere questo? Perché periodicamente, intermittentemente, si univano questo progettista e quel pezzo di classe dirigente e sbattevano sul territorio questo progetto e quella realizzazione, senza coltivare nel pensiero lungo un'adeguata elaborazione programmatica e progettuale. Di solito questo in altre regioni lo ha fatto la borghesia, la borghesia che più volte si ritrovava a studiare, a stimare e poi sceglieva l'impegno professionale che dava luogo a questa ipotesi e magari anche ad una ipotesi alternativa. Noi oggi abbiamo per esempio questa attenzione ritrovata sulla portualità per la generosità di alcune persone di buona volontà, ma non è che è il prodotto di una borghesia che si è messa lì a pensare. Ovviamente la mia lettura critica non fa risparmio della classe dirigente istituzionalmente competente, quella cioè che ha avuto il potere della decisione pubblica. Però se dicessi questo farei soltanto una lettura diciamo politicista. C'è il grande tema di un dibattito monco che purtroppo ha riguardato lunghissimi decenni in questa regione e ha riguardato anche le parti che hanno dato origine al mio impegno politico. Non ho difficoltà a dirlo. La democrazia cristiana e il partito socialista negli anni del Novecento nei quali abbondavano dovevano essere più esigenti sul piano di una lettura programmatoria. Ritrovare di più al momento giusto l'innesto tra il pensiero della borghesia economicamente concepita, il pensiero e il lavoro delle professioni dell'accademia e poi la decisione istituzionale del mondo delle realtà della decisione pubblica. Detto questo noi oggi ci troviamo in uno snodo nel quale di tanto in tanto si verifica che facciamo sulle alleanze delle autorità portuali e viene fuori per esempio una specie di tifoseria. Tant'è che i giornali che non hanno sempre il tempo di approfondire perché insomma eccellenza avremmo bisogno di dire qualche preghiera anche per la vita dei giornali perché questi inseguono la notizia che più fa colore nella speranza che quella regali copie e purtroppo non accade. Anche lì la scelta che salva è l'approfondimento e possibilmente l'ingresso nel merito degli argomenti. Molte volte sui giornali noi leggiamo L'Abruzzo va con Ancona. L'Abruzzo va con Taranto, ho scoperto adesso anche in alcuni atti. L'Abruzzo va con Civitavecchia. Allora voglio svelare un mito. Non ci sono alleanze che regalano immediatezze di funzionamento che risolvono il vuoto del passato. Noi ci alleiamo con coloro i quali ci danno di più e qual è il di più che ci preme? Intanto non essere secondari. Il rischio con Ancona è che noi diventiamo una funzione di Ancona perché abbiamo una maledetta coabitazione sullo stesso mare. Questa è la ragione. Che significa questo? Che se noi dobbiamo fare una concessione alla Pilkington come autorità locale del loco rispetto ad una esigenza concessionaria marittima, se deve autorizzare Ancona, secondo voi Ancona dallo sguardo ai siti liberi che c'è Ancona, prima di dire alla Pilkington o a Amadori o alla De Cecco, beh fai qui o lì, ma certo già accade adesso. Sulla vicenda di Amadori, qui c'è un uomo dell'Amadori, già c'è stata una competizione sul dove si andava a realizzare soddisfazione, così come sulle manutenzioni. Allora che cos'è che noi dobbiamo imbrigliare? Non una simpatia tra i cognomi, perché per esempio qualcuno mi ha detto ma Pasqualino Monti è il più bravo, alleiamoci con il porto dove sta Pasqualino Monti e se poi se ne va, tant'è che già se ne è andato. Che succede? Ricominciamo da capo. Facciamo un'alleanza che ci metta a riparo rispetto alla nostra inutilità, a rischio di inutilità o a rischio di essere deglutiti. Dov'è che siamo fondamentali noi? In un'alleanza con l'autorità portuale di Civita Vecchia, anche alla luce, allora potevamo dire, dei flussi ingranditi che si sarebbero stabiliti. Ma è chiaro che non era difficile immaginare che la dorsale trasversale, orizzontale, che metteva insieme più mari e più Europa, di sicuro avrebbe conosciuto uno sviluppo di potenzialità. Certo il professore Forte ce lo ha vulgarizzato, il testo dei due generosi ce lo ha facilitato, ma è chiaro che poteva e doveva essere quello che è accaduto e che sta accadendo. Ma secondo voi perché Palazzo Chigi mette insieme Abruzzo, Molise e Lazio per quanto riguarda la centrale unica interregionale delle aggregazioni e degli acquisti. Questa è una cosa che, caro Paolo non lo sai ancora tu, o lo sai perché l'hai sentito l'altro giorno, l'aggregazione degli acquisti della Pia, mette insieme Toscana, Umbria e Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Queste aggregazioni prefigurano che cosa? Un macro-regionalismo italiano. All'interno di questo macro-regionalismo secondo voi il potenziamento degli snodi infrastrutturali premia che tipo di avvicinamenti? Questi avvicinamenti dei quali ci occupiamo con le autorità portuali circa la parte adriatico Civitavecchia, ma anche la partita ferroviaria e la partita autostradale. Io qui ne posso parlare perché sono sicuro che non ci sarà nessuno che mi denuncia che lo voglio fare per toto, gestore dell'autostrada Bescara-Roma, ma esiste anche questo in una visione da flussi, da infrastrutture, da corridoi. Lo ha detto bene il professore Forte, non poteva che essere così. E ci ha aiutato anche quella espressione immaginifica che ci ha regalato Sua Eccellenza l'Arcivescovo Forte. Quanto vale una visione che ci ingrandisca, che ci tolga dal riferimento piccolo legato all'agro nel concepire le infrastrutture? L'operazione corridoio come espressione assiologica. Che cosa evoca? Un ingrandimento di riferimento. E si lega bene al richiamo evangelico, io ci camperò con questi suoi riferimenti. Odos che è la via. Ma è chiaro, se tu vuoi concepirti mondo, devi determinare un ingrandimento di ciò che al mondo porta moltitudini. Che cos'è che porta moltitudini? Le infrastrutture. La partita che stiamo affrontando è una partita che cerca di facilitarci lo spostamento di moltitudini di merci e moltitudini di persone. Perché è lì che si situa l'economia. Ma siccome non è vero, c'era un vicepresidente della regione di tanti anni fa che riteneva che per essere preferiti, anche sulle infrastrutture, bastava far regali. Questo aveva un conto aperto in una gioielleria di Pescara, aveva tutte le marche di Mont Blanc, prendeva le Mont Blanc che le regalava alla filiera istituzionale che stava a Roma, dicendo che prima o poi riusciremo a convincere. Vedo un autorevole ingegnere della Proger, che probabilmente lo ha incontrato tante volte, questo ex vicepresidente. Non era il destinatore di Mont Blanc. Non lo era. E diceva lui, noi dobbiamo essere simpatici per essere graditi, pensando che si tratti di una scelta delle persone fisiche. Noi dobbiamo determinare evidenze di fondamentalità. Il Signore ci ha donato una fondamentalità, che è la nostra centralità. Noi siamo centrali rispetto a che? Centrale rispetto per esempio alla macroregione adriatico-ionica, che è un fatto istituzionale. Il macroregionalismo europeo ci premia i 905 miliardi di euro della macroregione adriatico-ionica postulano il patrimonio di nodi infrastrutturali come fondamentali. Là ci sono 70 milioni di persone in questa macroregione adriatico-ionica che non ha carte intestate, che non ha usceri, che non ha invalidi civili assunti, ma è un coacervo, diciamo così, un campo magnetico di relazioni economiche. E per forza di cose, se l'Abruzzo si eleva e si toglie dalla sua invalidità circa le scelte di specializzazione, è chiaro che siamo noi fondamentali. Lo siamo noi, però dobbiamo fare in modo, per esempio, che il porto di Ortona non abbia nemici. Alla borghesia che è presente qui, io chiedo una cosa, collocatevi, scegliete, diventate nemici di chi è nemico del porto di Ortona. Ma è immaginabile, scusatemi, ma è immaginabile che si possa sostenere come una misura neutra chi fa le denunce all'autorità giudiziaria e non solo, forse anche alla Corte Celeste avranno provato a fare l'eccellenza e avranno rispedito quelle denunce contro il dragaggio del porto di Ortona. A Milano, eccellenza, vent'anni fa, un signore molto adulto, di nome Piero Bassetti, cattolicissimo, mise insieme un gruppo di benpensanti che non volevano gli appalti senza gara. Benpensanti che volevano pensare a favore di Milano dicendo facciamo una distinzione tra buoni e cattivi per Milano. Chi fa, chi elabora, chi assume iniziative, chi contrasta, chi ostacola. E facevano l'agenda, l'elenco di chi si comportava male. A Milano in quel ventennio hanno concepito le più grandi trasformazioni di Milano. Il centro Bicocca è nato per la tutela morale e culturale di questo gruppo di amici di Milano che faceva l'elenco dei cattivi, che faceva le denunce contro le trasformazioni. Ma è immaginabile che a Ortona si faccia la guerra contro il dragaggio e poi si fa il convegno a favore del porto di Ortona. Allora alla borghesia che siete voi, io dico perché non prendete posizione? Non andate a votare se lo ritenete, non prendete tessere, non versate soldi ai partiti e farete bene, ma non siate neutri. Eccellenza, l'indifferenza dove si riparano molti ritengono che sia la condotta migliore ed è sbagliato perché noi di gioco in gioco stiamo per avere tutte le infrastrutture che non sono più capaci di funzionare perché sono state concepite vent'anni fa. Io questo lo affermo perché poi la competizione è tra Ortona ed un suo omologo che sta altrove. Per esempio io ho conosciuto il sindaco di Rotterdam, non dico la competizione con Rotterdam adesso, ma fra vent'anni potrebbe essere fra vent'anni. A Rotterdam, il sindaco di Rotterdam, sapete che cosa ha donato al porto per chi si serve di quel porto? La stampante 3D situata in corrispondenza della portualità di Rotterdam per dire qui non solo trasportate ma potete pure produrre, è il massimo dell'espressione del ruolo del retroporto. Venite perché qui fate, dopo che avete fatto e fate innovativamente, potete anche trasportare. Voi immaginate se noi ci mettessimo in mente di usare fino in fondo l'ultimo centimetro dell'agro di Ortona? Verrebbe fuori la gara di chi ostacola di più e allora c'è bisogno di uno spirito costruttivo. Lo chiedo a voi che siete alla borghesia. Lo chiedo anche alla migliore espressione della stampa. C'è stato un periodo in Abruzzo in cui il giornalista era talmente generoso nel racconto giudiziario che scriveva i reati che non ci stavano negli atti di imputazione. C'è un giornalista al centro per esempio che aveva la mano talmente specializzata che pur di colpire ingigantiva. Ma con questa postura noi non possiamo occuparci di infrastrutture. Questa è la regione eccellenza. Lei non c'era, allora stava magari facendo bene o studiando ancora meglio nelle università numerose che lei ha frequentato e che ha saputo animare. Questa è la regione in cui un signore di nome Gaspari ad Avezzano, che ha conosciuto bene, per far arrivare la Texas non è che si fece carico di pettinare le bambole delle norme che c'erano ed erano insufficienti, addirittura si fece carico di scavalcare un vincolo di uso civico poiché una piccola porzione di una particella era gravata da vincolo medievale. Lui disse ci penso io, chiamò l'autorità giudiziaria destinata e dedicata ad amministrare quel vincolo e gli fece cambiare il vincolo in attesa che cambiasse. Lui determinò il sì a quell'imprenditore. Io non oso immaginare una cosa di questo tipo. Che cosa determinerebbe oggi? Nel triangolo di sommo gaudio tra il giornalista di giudiziaria che la deve ingigantire a tutti i costi e la parte politica oppositoria che non avendo altro da fare dice mo' ingrandisco io il malefatto, mancando uno spirito della pubblica opinione animato da spirito borghese. Tornando però all'argomento, come ci comportiamo noi rispetto a queste formidabili opportunità? Che fa l'Abruzzo? Noi abbiamo assunto la battaglia della copertura delle reti Tenti sulla dorsale adriatica, assumendo Ancona come punto di riferimento in alto e assumendo Bari e Brindisi come punto di riferimento in basso, facendo votare dopo 23 anni di vuoto e di silenzio dal Parlamento europeo in seduta unitaria. Non la Commissione, Parlamento europeo, voto favorevole quale priorità del programma della trasportistica europea. Questo punto adesso, 28 ottobre 2015, durante questa legislatura, l'ultima volta che si poteva fare era il 30 di dicembre 2013. Adesso siamo nella fase in cui il Ministero competente dello Stato membro, cioè l'Italia, deve cominciare a mobilitare risorse finanziarie pari al 40% dell'investimento e realizzare i progetti. determinare elaborazione progettuale. Ce la facciamo? Sì, se noi dimostriamo che ci sono i numeri economici che hanno bisogno di questo investimento, perché il rapporto è sempre quello. E nel caso della trasportistica è uno dei casi da scuola in cui è l'offerta che genera la domanda, ma la domanda però deve avere fiducia. Qual è il problema che si crea in inciampi tipo quello di Ortona o anche Pescara? Che se diventa gigantesco fare manutenzione, si crea una rottura del patto di fiducia tra le imprese e le istituzioni. Ecco perché io continuo a chiedere al mondo intero di aiutarci affinché l'attività che si fa in ogni dove in Europa si faccia con normalità anche in Abruzzo. Io devo ammirare quello che hanno saputo fare a vasto nell'accoppiamento imprenditori e classi dirigenti. Lì sono più avanti perché non si è creato diciamo un clima di odio e non c'è stato un deglutimento nella lotta politica di argomenti infrastrutturali di quella dignità. Io questo lo riconosco anche a merito di certa impresa e di certa classe dirigente locale. Credo che si siano uniti. Per esempio Prospero era di centro-destra, ha aiutato il sindaco di centro-sinistra nel portare a termine il lavoro di maturità del piano regolatore portuale. Noi dobbiamo fare in modo che... Piccola richiesta come pastore anche di... Prego. ...per caso di inserire anche il porto di Vasto. Certo. Sì sì ma infatti la presenza di mister Pilkington per me diciamo è anche un'annotazione in blu che l'agenda portuale di questa regione deve tenere da conto una straordinaria specializzazione industriale che c'è in corrispondenza del porto di Vasto. Noi dobbiamo fare in modo che non ci siano interruzioni tra le diverse modalità di mobilità. La mobilità ferroviaria va cucita perfettamente, sartorialmente rispetto al passo che deve cedere alla mobilità marittima portuale da economia del mare e anche la mobilità autostradale e stradale devono essere concepite al servizio e a favore. Come siamo messi su queste opere di cuciture? Mai si è fatto prima una interlocuzione unitaria. Io vi rivelo per esempio che ho scritto alla direzione generale di vigilanza autostradale per dire che ricomincino a fare investimenti adeguati anche sulla dorsale adriatica di Autostrade per l'Italia, non solo sulla realtà che penetra e arriva all'Appennino abruzzese, ma anche sulla dorsale adriatica perché anche su questo fronte noi abbiamo avuto delle latitanze. Questa visione di insieme è l'unica che può promuovere la connessione orizzontale dalla Spagna alla nuova Europa dei Balcani. Se noi determiniamo questa funzionalità di questo notevole patrimonio di sistemi viari, ferroviari, autostradali che ci ritroviamo dal Novecento ma non li abbiamo saputi connettere, cucire e armare in una visione unitaria. Presidente che è terza corsia? Allora io quello che porrò come questione alla proprietà in uscita di Autostrade per l'Italia, perché lì c'è un disinteresse dell'attuale proprietà di Autostrade per l'Italia, Benetton vuole uscire, ma abbiamo l'interlocuzione con la direzione generale di vigilanza autostradale, il professore conosce di sicuro il dottore Coletta, l'architetto Mauro Coletta, che è l'autorità massima che fa le istruttorie per il rispetto delle convenzioni in materia di obblighi autostradali. Sono anni che in Abruzzo non si mette più all'ordine del giorno non solo la manutenzione straordinaria, ma a volte anche la manutenzione ordinaria e il registro di questo, la lavagna di questo è quella quantità di cantieri quasi da caserta lettura peggiore che si vede da Fossacesia fino a Vasto. Noi dobbiamo fare in modo invece che si concepisca la programmazione per tempo della terza corsia anche al servizio dell'Abruzzo, perché noi siamo arrivati a servire la metà delle Marche, l'altra metà è considerata, sapete come lo chiamano? Marcuzzi, dal sud delle Marche al nord dell'Abruzzo, quella sarebbe la zona nella quale comincia l'interruzione della modernità. Per la prima volta l'Abruzzo pone con energia, avendo l'argomento anche del numero di incidenti che mai, lo dico all'architetto bravo della provincia di Chieti, che mai hanno numerato e denumerato in Abruzzo gli incidenti. L'incidentalità nel 1970, quando c'era il ministro della programmazione economica Pieraccini, si contava il numero degli incidenti per programmare gli investimenti autostradali. Io non credo che tutte le polizie autostradali siano state intondite, ritengo che la sciatteria ha sostituito il rigore lavorativo. Il numero degli incidenti è l'argomento più forte, poiché la Corte dei Conti richiama su questo fronte quanti incidenti ci sono stati, li programmiamo la concentrazione degli investimenti. Bene, l'Abruzzo è ritornata nella lavagna degli investimenti autostradali. Adesso vedrete che facciamo, ma il problema che abbiamo, e ritorna alla necessità di un confronto con lo spirito borghese di questa regione, è che tutte le aree sono occupate. Non c'è più un metro quadrato lungo il quale realizzare il passaggio di un'infrastruttura. E l'infrastruttura che deve passare su un territorio così pervasivamente consumato, aumenta i suoi costi a dismisura. E anche la vicenda del parco della costa teatina, perché lo abbiamo riletto in quei termini? Non per una cessione a due imprenditori che devono investire, ma per fare in modo che trovi situazione, sito, questa infrastruttura che nelle Marche ha portato quel di più di PIL che noi non abbiamo avuto. La differenza di PIL tra l'Abruzzo e le Marche passa per l'efficienza delle infrastrutture. Loro hanno 220 mila imprese. Noi abbiamo qualcosa come 129 mila imprese, questa è la differenza. Ma la ragione di questa differenza poi si misura anche in termini di PIL. Il PIL dell'Abruzzo è 29 miliardi di euro, il PIL delle Marche è 33 miliardi di euro. La differenza è nel patrimonio delle infrastrutture e nella qualità realistica delle università, sul piano della capacità formativa. Lì l'università si compiega sempre di più con la vita delle imprese. È per questo che io dico, cari amici operatori economici, mettiamoci insieme per capire le cose da fare, ma poi per proteggerle. Ogni volta che si alza l'asticella parte un vento, un monzone di nemicizia che consegna tutto il dossier all'autorità giudiziaria. È possibile fare come si fa in Germania e in America, che sulle infrastrutture si fa un patto. Facciamo un patto sulle infrastrutture. I porti sono talmente fondamentali che nella teologia, nella lettura religiosa assumerebbero la dimensione del sacro. Norberto Bobbio diceva che il dovere di difesa della patria evoca il sacro. Noi dovremmo avere la dimensione del sacro nei comuni delle infrastrutture. Cioè si toglie dalla lotta politica. Chi fa sulle infrastrutture è messo a riparo dalla lotta politica. Io ho sempre vinto le elezioni. Non ho mai attaccato il mio avversario se si dedica ad una vicenda di infrastrutture. L'infrastruttura, dalla lettura marxiana in poi, è qualcosa che permane, che anima nel fondamento. Anche se lì, diciamo, c'era una sostitutività espressiva tra struttura e sovrastruttura. E sovrastruttura e non infrastruttura. L'infrastruttura è quello che mantiene, che consente quasi sorgivamente poi all'economia di continuare ad esserci e di innovarsi. Io assumerei come obiettivo, ambizione di questo convegno, che la borghesia abruzzese si ritrovi su questo. Negli anni 60 il padre di questo signore e un'altra ventina di persone si fecero carico di supportare la classe dirigente politica nello stabilire alcune grandi priorità. Noi ci siamo ritrovati l'autostrada perché ci fu quel coraggio. Io non voglio arrivare a dire perché non tutti seppero quello che si stava facendo. Perché a volte ho la sensazione di questo, eccellenza. Noi dobbiamo però in questa nuova stagione di nuove esigenze infrastrutturali creare un humus di consapevolezza, di avvertimento che non possiamo distruggere tutto sul piano della lotta politica. Io per esempio ho visto sul palazzo della regione che faremo a Pescara, ho visto una delle figure più elevate, quasi a livello delle autorità morali, ma in quel caso è un'autorità del rigore, che mi ha detto vai avanti. Vai avanti anche perché rileggendo negli atti del mio palazzo si è sempre fatto così su ogni argomento che è impegnativo. E mi ha fatto... è chiaro non lo posso dire chi è, ma si capisce, ho parlato di autorità che amministra il rigore, vai avanti. Ma è incredibile che io mi debba augurare di incontrare la fata per avere un incoraggiamento. Me lo aspetterei invece da quella dorsale di sensibilità che a Milano ha fatto fare quei passi che vi ho detto, che ad Ancona ha costruito quella cosa lì che si chiama quadrilatero. Cari amici della Camera di Commercio, amici operatori economici qui ritrovati, vedo anche dei liberi professionisti, facciamo in modo da realizzare un'agenda della modernità dell'Abruzzo su questo fronte. Io quando sono stato candidato ed eletto, io mi sono vestito e rivestito, permettetemi, di prepotenza contro i problemi. Però mi sto accorgendo che serve anche altro, serve una condivisione crescente, che io voglio cedere agli altri che hanno pari ruolo, nelle città per esempio. Io non ho difficoltà a dire che il sindaco di Chieti, se adesso si fa carico di cucire l'università con la città e dovesse realizzare quello che noi gli abbiamo finanziato come regione, un sistema tecnologico avanzato che riesce a cucire l'università con la città e magari c'è un cappellone che gli si mette contro, io gli do il sostegno della mia parte politica e anche della mia istituzionalità. Questo significa organizzare un'agenda della modernità del territorio, così come quello che sta facendo il Rettore di Teramo a Teramo o quello che dobbiamo fare tra Ortona, Pescara, Vasto, circa altri potenziamenti del territorio. Io mi avvio alla conclusione perché c'ho sempre San Giacomo della Marca che mi aspetta, ringrazio questa comunità che ogni tanto voi mettete insieme, a Roberto Di Vincenzo dico di tenere bene a mente quello che ha fatto il padre. È l'unico caso in cui il padre, come scrivevano eccellenza i cattivi maestri del 68, è uno dei pochi casi nel quale il padre non va ucciso sul piano anche dell'immagine. Dal punto di vista di quell'insegnamento della scuola di Francoforte, il padre non venga ucciso perché il padre ha fatto tanto, tanto in questo territorio. Grazie. Grazie Presidente D'Alfonso.